ariete il pensiero è rivolto alle questioni pratiche concrete i voli filosofici in questo momento non vi interessano anche se l'attrazione per il nuovo è forte state vivendo una fase nella quale l'esigenza di attuare cambiamenti in alcuni settori di vita si fa impellente toro giornata incastonata in un periodo favorevole ed espansivo siete dotati di dinamismo fisico e mentale che vi rende attivi e le occasioni per conquistare alcuni obiettivi sono numerose seguite questa tendenza al movimento e non vi ancorate a vecchi pregiudizi gemelli il momento pone l'accento su qualche problematica soprattutto in ambito lavorativo che vi suscita insoddisfazione l'opposizione di marte e saturno solleva effetti di rallentamento o contrasto ma ci sono buone novità a breve termine cancro baciati da un bel cielo astrale è il periodo giusto per impegnarvi in un lavoro nuovo o in qualche progetto che vi sta a cuore le iniziative sono agevolate e la vostra lucidità intellettiva vi porta alle scelte azzeccate buone le notizie anche nel campo amoroso leone un abbassamento vitale generale vi induce a sfociare spesso nella polemica o nella percezione di essere vittime di qualche oltraggio spesso di fantasia cercate di non chiudervi nella auto esaltante considerazione di voi stessi e date spazio agli altri vergine la fase astrale che vi riguarda porta benefici e ottimismo ciò che intraprendete a buoni risultati anche se talvolta la dissonanza marte e saturno fa sentire la sua presenza con blocchi o incertezze passate oltre e aumentate consapevolezza e convinzione bilancia la giornata non vede grandi clamori in realtà lo scorrere della vostra vita non è difficile piuttosto sono le resistenze interiori le vostre impressioni che subiscono una sorta di destabilizzazione e vi rendono inquieti non vi mancano comunque energia e un pizzico di fortuna scorpione l'accumulo planetario in aspetto di opposizione causa un periodo conflittuale e agitato nel quale non riuscite a trovare quelle soddisfazioni che cercate a breve il quadro cambierà ma dovete recuperare qualche energia e riprogrammare questioni di lavoro e sentimentali sagittario ottimizzate il lavoro che state effettuando su alcune situazioni che comportano scelte o una visione pratica e razionale delle cose tra poco una serie di aspetti meno favorevoli potrebbe creare qualche fatica o impedimento in più preparate un buon terreno capricorno un cielo astrale molto favorevole vi consiglia di attivarvi per risolvere un problema che avete in corso o proporre progetti prendere iniziative che se gestite con acutezza possono trasformarsi in mete preziose cavalcate questo momento importante acquario la fase astrale che state attraversando mostra un carattere dispettoso dovete fare i conti spesso con fatti o situazioni che non condividete e vi recano qualche disagio lo stimola ad agire con una energia mirata e concreta però non manca e vi conduce verso soluzioni adeguate pesci sfruttate questa giornata che si inserisce in un contesto positivo motivazione e intesa con chi vi circonda formano le basi per consolidare un periodo costruttivo l'amore ritrova equilibrio e capacità di espressione così come l'armonia affettiva che vi apre agli altri buone stelle